Un accordo importante che è stato siglato tra Iviso e Banca di Cherasco a tutela dei clienti nel segno della tecnologia e del rispetto del valore umano. Sì, noi siamo davvero molto soddisfatti per questo accordo che dico sempre essere molto fortunato perché combina davvero l'attenzione che entrambe le nostre realtà hanno nei confronti del cliente finale mettendo a disposizione appunto dei clienti di BCC di Cherasco anche la tecnologia e quindi la capacità che ha Iviso di studiare offerte personalizzate che mettono appunto al centro al cliente che danno dei benefici in termini di efficientamento, di soluzioni innovative e di risparmio. Alla fine questo credo che per i clienti sia molto importante. Quali sono i vantaggi di questo accordo? Sicuramente abbiamo creato un prodotto cercando un posizionamento di valore per il cliente finale. Abbiamo trovato un'offerta che ribaltasse il costo del mercato all'ingrosso al cliente e quindi non esistono alcun tipo di spread all'interno del contratto ma è un contratto che ribalta il costo dell'energia così come noi la compriamo. Oltre a questo abbiamo una bollottazione puntuale, proprietaria e mensile che permette al cliente soprattutto nelle fatturazioni gas di rateizzare quello che sono i consumi invernali rispetto a una bolletta bimestrale e abbiamo un'app di monitoraggio e qui interviene la tecnologia che ci contraddistingue che permette ai clienti con ogni dispositivo, è un'app Air Responsive, quindi un'app che rappresenta la tecnologia di Iviso che permette ai clienti di andare a monitorare i propri consumi, andarli a confrontare con quelli dell'anno precedente e di fornirci le autoletture. Siamo molto soddisfatti perché diamo ai nostri clienti un servizio aggiuntivo utilizzando una rete sperimentata che funziona e soprattutto risolviamo il problema, secondo me è molto serio per gli utenti di evitare di dover fare una contratualizzazione telefonica con soggetti che non si conoscono e di cui non si conosce la serietà. Il rapporto umano in queste situazioni secondo me risolve molti problemi. Anche per quanto riguarda la validità del servizio, il nostro cliente avrà sempre una persona fisica a cui rivolgersi se non è contento. Quindi questo è il valore aggiunto di questo servizio che diamo a tutta la nostra rete di clienti. Noi siamo una banca del territorio, cerchiamo di dare molta attenzione ai nostri clienti, ai nostri soci, la maggior parte dei nostri clienti sono anche soci della nostra cooperativa. Abbiamo incontrato un'azienda importante del territorio, Evisa, con sede a Saluzzo. Abbiamo visto che condivide i nostri valori, in particolare l'attenzione alle persone. E siamo riusciti ad avere un accordo commerciale che ci consente di proporre ai nostri soci e clienti delle tariffe sul mercato elettrico e del gas molto molto vantaggiose, a prezzi che non si trovano sul mercato. Quindi è una collaborazione che inizia con reciproca soddisfazione e speriamo che siano soddisfatti anche i nostri soci e i nostri clienti.